È stata una settimana dove comunque il mister si è fatto conoscere, ha introdotto il suo credo e abbiamo lavorato parecchio, abbiamo cominciato da capo praticamente. Lui giustamente ci conosceva già bene perché anche lo staff ci conosceva tutti per nome, erano preparatissimi e tutto. Avevano studiato. Sì, noi abbiamo fatto una settimana cercando di essere più disponibili possibile e loro uguali, avevamo voglia di andare in campo e di dimostrare che c'eravamo e penso che la partita sta preparata bene. E penso che si sia visto anche in campo. Volevamo dimostrare di poter, in un cammino che è ancora lungo, credo, perché le partite sono ancora tante, i punti di disposizione ci sono. So che si sa sempre a dire che la classifica è corta, però la verità è quella perché siamo lì. E spero che a Chiavari abbiamo messo un piccolo tassello per la fiducia soprattutto che è quella che a noi manca in questo momento. E una volta ripresa quella credo che le qualità per poter fare quest'impresa, che penso sia equiparata all'impresa che stavamo per fare l'anno passato, si possa fare. La nostra squadra è una squadra caratterizzata dalla qualità. Soprattutto in mezzo al campo abbiamo giocatori che fanno della tecnica e della qualità, la loro arma migliore. Però allo stesso modo lui ha detto io ho una squadra tecnica con della qualità, ma se la qualità non si abbina all'aggressività, alla corsa, all'entusiasmo, non ci facciamo niente. Quindi su questo ho soprattutto lavorato ed è una cosa a livello mentale. La convinzione c'era anche nelle altre partite perché, ripeto, la qualità dei giocatori e quello che ogni giocatore ha dentro di sé è quello. È chiaro che in determinate occasioni riesce a metterli in campo, riesce a farli vedere e in altre occasioni no. L'ambiente, il clima che si risperava sabato era quello di voler dimostrare e quindi ognuno di noi voleva dimostrare le qualità. Sul gol, su tutti i gol, sui due gol che abbiamo fatto penso che le qualità si vedono perché Nicola fa uno stop da giocatore vero, mette la palla dietro, Igor la mette a fil di palo, il secondo gol uguale. Le caratteristiche sono quelle, è inutile provare a cambiare caratteristiche che non abbiamo, però se alle caratteristiche, alla qualità che abbiamo, ci abbiniamo anche a quel qualcosa che probabilmente ci è mancato, possiamo fare bene. Ed è quello che il mister vuole, quello che il mister ogni giorno ci dice di migliorare, che ci sono ampi margini di miglioramento, ma dobbiamo essere noi primi a crederci e a lavorare per migliorare questo.